E questa è una storia drammatica, questo uomo è affetto da lupus eridematoso, da morbo di flaiane, dal basetof, dall'artrite reumatoide, dalla spondilartrosi bilaterale, dalla gastrodudenite pilorica, dall'orticaria e c'è anche il piede valgo. Oggi quindi ci racconterà la sua storia evidentemente drammatica e questo uomo oltretutto deve convivere tutti i giorni con la sinusite, il signor Rezzonico.